Grazie a tutti Per far entrare con una sequela di bestemmie Che poi ti fanno Quindi le armi vanno bene solo Se hai il colore di pelle giusto Se arrivi dal posto giusto del mondo Che è la padania Ho capito questo E poi E per difendere casa tua Nei casi di legittima difesa Però nei casi di guerra non le puoi utilizzare Perché vorrei mica che si difendano Le persone solo se entrano In casa Ovviamente, quello sì, certamente sì E il santo padre va bene ma non quando parla di divorzio A quanto pare, vabbè Nel senso Selettivo, no? Tra l'altro ho saputo che sei Il nemico numero uno degli operatori telefonici Prima io stavo Smadonnando perché Tim non funzionava Ho visto No Diciamo che ho i numeri di telefono direttamente Dei responsabili comunicazione Dei vari operatori Tra l'altro c'è una macchietta Perché uno di questi operatori Non posso dire quale Che era nostro cliente Nel momento in cui io gli bestemmiavo dietro Dicendo Cosa succede se metto la due eventi Nelle borchie vostre qua Con il mobile aperto C'era il mio commerciale Che era da loro a firmare il contratto È arrivato l'ufficio acquisti L'ha guardato in faccia e fa Il suo CEO È Matteo Flora, vero? Lui così e fa Sì lo so Sta facendo casino Fa no ma guardi Tenga E mi ha dato un numero di cellulare Dicendo la prossima volta Prima di scrivere su Twitter Chiami questo 24 ore su 24 Vabbè Capito Contatto diretto Senti Matteo Noi ieri abbiamo visto il tuo video La parte del video dove Diciamo Provavi ad analizzare un aspetto Della Credo della Ho capito Poi magari non ho capito un cazzo Della comunicazione di Orsini Sì nel senso Allora calcola che Normalmente il motivo per cui Io non faccio un granché di sub Sul canale È perché in genere non do risposte Cioè tu finisci buona parte Dei miei video Che hai più domande Di quando hai iniziato il video Mi va benissimo così Un branco di selezionati deficienti I migliori Che sono riuscito a selezionare Dove mi trovo bene Che mi seguono E lì si parlava proprio Del fatto del Perché fa così paura Orsini Orsini ha detto Una serie di cose Scomode Ha detto anche Ha detta di molti Ha detto anche Una sequenza di puttanate Per la carità del cielo Cioè o meglio Ha fatto cherry picking Di una narrazione Che però è quello Che facciamo più o meno tutti Fare cherry picking Di narrazioni Ok È un po' come quando Non vogliamo parlare Dei partigiani E del ruolo dei partigiani Durante la seconda guerra mondiale Dei crimini dei partigiani Ne hanno fatti E certo che sì Ne hanno fatti Come in tutte le varie parti Però selezioniamo E facciamo cherry picking Delle parti che ci piacciono È normale Ecco anche lui Ha fatto cherry picking Però normalmente Una persona di quel tipo La affronti O Mostrando le cavolate Che dice Ma non dici È filo putiniano È Alla parte di Anche perché non lo è Tecnicamente parlando È definito tale Ma non lo è Quindi Nella parte di narrazione La cosa più comoda È avere una narrazione unica E lo si capisce La narrazione unica Che tra l'altro In scienza della comunicazione Si chiama narrazione unica O storytelling unico In scienze politiche Si chiama ideologia Ti serve Per prendere Decisioni In maniera più veloce E quindi ogni voce Che si stacca Da quella che è La narrazione predominante Viene isolata E viene Cioè Viene fatto Character assassination Non posso dire Viene killerata la persona Se no ti chiudono L'account di LinkedIn Come è successo a me Ieri Adesso stiamo bestemmiando Dietro questa cosa Ah ecco Vedi Quindi non so cosa Speriamo non cada nella retorica Ma figurati Ci sguazzo dentro Io nella retorica Stavo leggendo la chat Quindi dici che è più una questione comunicativa Che in realtà Cioè Nel senso che ieri Ad esempio Parlavamo anche con Un altro ragazzo Che solitamente appunto Si occupa di storia E di guerra E lui diceva Che proprio il problema di Orsini È stato quello di Non aver Spiegato ad un pubblico Che non è abituato A trattare queste nozioni E a queste informazioni E ha utilizzato il linguaggio Che normalmente Si usa all'interno del circolo Di coloro che sono esperti Di quella materia E che quindi Il problema più che altro È stato che Non siamo noi Ad aver capito male Ma c'è Un problema C'è un Un disallineamento Tra quello che lui voleva dire E quello che noi comprendiamo Perché non conosciamo Quello che Lui vorrebbe dire Davvero Però ci sono comunque Nel caso Che lascio A prescindere Allora quello sì C'è una discrasia ontologica All'interno di Come lui usa In realtà c'è C'è un overload cognitivo Su alcune parti Cioè ci dà troppe informazioni In troppo poco tempo Per evitare Di fare questa cosa Fa una cosa Un po' particolare Cioè usa Metà del lessico Banalizzante È come È come Cuba No non è come Cuba Cioè è un esempio Del cazzo Quello semplicemente E un'altra parte Di lessico Molto specifico Che ha a che fare Tanto con teoria Dei giochi Ok Quindi Questa cosa Va un po' in contrasto Finché parla Nel suo circolo Alcune cose Alcuni ad esempio Riferimenti Alcune similitudini Le cogli Nelle persone Che non hanno Il suo livello di cultura Il suo livello di preparazione O non sono Nella stessa verticalità La stessa cosa Succede Abbastanza spesso Ora Ora La Il problema Reale Qui È che In realtà La narrazione Vuole un cattivo E un buono Nella guerra Non ci sono Quasi mai Buoni E cattivi Quasi mai Ci sono Angherie Crimini Fatti da Ambe Due le parti Il problema Cioè andare a capire Cosa è successo In Donbass È uno Scroscio di bestemmie Perché sono Cioè Vuol dire Prendere decine di anni Vuol dire Prendere Sì Tutta una parte Anche È vero Di fascismi In una zona Particolare Fascismi Secondo la definizione Di fascismi E raccontarla In pochissimo tempo È difficile Dall'altra parte Non si può nemmeno Fare il fatto di dire E vabbè Ma allora Anche loro Perché nella narrazione Imperante Hai bisogno Di un cattivo Hai bisogno Di due tipi di cattivo Un cattivo interno Un cattivo esterno Ma quello è Il fascismo eterno Non so se L'avete già consigliato Di Eco Eco scrive Un libertino Molto piccolo L'ha citato anche Shai ultimamente Che parla proprio Di fascismo E ti dice che Ogni regime Ha bisogno Indipendentemente Dal fatto Si sia di sinistro Di destra Di due tipi di nemici Un nemico interno Un nemico esterno Un nemico interno È quello che vai A combattere Con gli avversari politici Il nemico esterno Deve essere Grande Cattivo E onnipotente Il nemico esterno Qua è la Russia Dentro a questo Dentro a questo Frame Se vuoi Da framing Cioè come inquadriamo La realtà Nessuno di noi Vede la realtà Nel complesso Facciamo tutti i framing Ne prendiamo un pezzettino E analizziamo in quel contesto In quel frame Che noi stiamo seguendo adesso Putin è cattivo A prescindere Cosa fa Orsini? Gioca Nel suo ambito Dove non esistono Buoni e cattivi Esiste solo Come si vincono I conflitti O come si porta La parte di Di pace O come si contratta Una pace Da lui non ci sono Buoni e cattivi E lo dice E lo spiega Il problema è E che forse Non siamo pronti A un mondo Che non abbia Buoni e cattivi E basta Quello era quello Che dicevo Non ho capito No più che altro Perché poi Ovviamente La cosa va oltre E si riguardano Anche altri post Che sono stati scritti E ce n'è stato anche Uno sui migranti Che sinceramente Quello c'è poco da intendere Cioè non è Neanche tanto Il linguaggio Del circolo ristretto O un linguaggio Comunicativo Di qualche tipo Cioè semplicemente Per dire che Delle persone Sono egoiste Perché salgono Su un barcone Con il figlio Perché sperano In una vita Migliore Altrove Insomma Lascia un po' Il tempo che trova E poi lascia desiderare Da che punto di vista Però Non è un trattato Di etica E di morale È un trattato No però è un post Su un social Capito Ma anche nel libro La teoria economica Dietro a quello Se devi fare La teoria economica Della migrazione Devi partire Da degli assunti Che non sono morali Ok E gli assunti Non morali Sono che non Tutta la popolazione Può permettersi Di parlare Di pagare Lo scafista Ed è una realtà It's a fact Ora Può non piacerci Perché ovviamente Li vediamo Come martiri Nella relativizzazione Perché lo sono In confronto a noi Sono Povera gente Ma in confronto Al Ambiente In cui loro vivono E da analista Ti metti a fare Quella parte Spegnendo La morale Lui deve fare Quell'esercizio Il problema è Puoi Puoi fare Questa cosa Parlando A determinati Contesti No Non puoi Guarda Parlavamo L'altro giorno Sul gruppo Una cosa Che non c'entra niente Che non voglio Poi approfondire Però ti faccio L'esempio La pedofilia È Un orientamento Sessuale O no Perché a seconda Di come lo definisci Diventa un problema Se dici di no Stai negando Il fatto Il fatto di tanti Altri orientamenti Particolari Nel grande spettro Degli orientamenti Ok Se dici di sì Però è un orientamento Allora o li ammazzi O non Non puoi metterli In galera Perché non cambi Orientamento Come non puoi Cambiare L'orientamento Come non Non funzionano I Come si chiamano I camp Dove Dove ti Sgheizzano Quindi Ci sono Gli elementi Che puoi trattare In alcune verticalità Ma non puoi trattare In maniera semplice Nella parte generalista C'è un motivo Per cui l'accademia Ha delle cose Da accademia No no Ho capito il tuo discorso Perché Il riferimento L'ho colto perfettamente Cioè nel momento In cui lo sei Ma non agisci L'esempio che hai fatto E ok Infatti lo condivido E quello che Abbiamo sempre detto In questi giorni Infatti è non eccessivamente Semplificare tutto Perché anche in questo caso Il discorso è molto complesso Risverito anche a quello che Insomma La situazione attuale E quello che stiamo dicendo Attualmente Quindi sicuramente Come dici tu Per poi Raccontarla A noi che vediamo Parlo di me Perché non sono un'esperta Di relazioni internazionali Quindi vedendo un professore Che parla Ascolto E sento Quello che sta dicendo Però nel suo caso Ok Però ci sono anche Tanti altri casi Che vengono portati In tv Che non mi sembra Che abbia Che sia più una questione Di linguaggio Per un pubblico generalista Ma proprio Prese di posizione Basate sul nulla Ma allora Sì Guarda C'è uno In altri casi Ci sono prese di posizione Basate sul nulla Cioè mi sembra Uno dei commenti Molto bello Di universe Qualcosa che Che sto leggendo Dice Cioè il problema Il problema è che Quel tipo di filosofia Non è applicabile Nella vita reale È vero Buona parte Delle teorie Non sono applicabili Nella vita reale Anche la fisica Teorica Non è applicabile Sotto certi punti di vista Perché Perché la fisica Funziona in un mondo Ideale In cui non ci sono Tutta una serie di cose A contorno Però È necessario Tante volte Sviscerare Un'idea Una Una teoria Da quel punto di vista Guarda La stessa cosa La fai Grazie Cioè la differenza Principale Di quello che sta Succedendo Nel mondo Della radicalizzazione È che prima Avevi Il mullà Che veniva E ti radicalizzava Cioè ti apriva Il pon Andava Adesso le persone Lo fanno Automaticamente Online E anche qui Tu parti Da un punto di vista Ideale Il 99% Delle teorie Che tu studi Della autoradicalizzazione Ideale Non funzionano così Nella realtà Perché non hai La persona sola Soletta Nella sua stanzetta Che va a cercare Solo su quel motore Di ricerca Solo quelle parole Chiave Però ti serve Perché se no Non riesci a modellizzare Una serie di cose Ora Che poi Sia un errore Il fatto di dire Allora vado a un talk show E parlo In quel modo E non mi preparo A parlare in un altro O non penso Le conseguenze Di determinate cose Quello è un errore Di comunicazione Da parte di Orsino Quindi come doveva dire Secondo te Doveva decidere Quale dei due Cioè Quale dei due Metodi Andare a O parla A livello Teorico E ti dice Guarda che In teoria dei giochi Nella parte di teoria Devi partire Da questo punto di vista Devi partire Da capire Che cosa vuole L'altra persona Capire come L'altra persona Vede il mondo E per l'altra persona Questo Questa 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 Era una minaccia Questa 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 Era una minaccia Non importa Che lo sia Per te o no Che l'avevi fatto In quel modo O meno È che per l'altra persona Funziona così Sì ma non esistono i giochi Cioè nel senso Matteo Penso che tu sappia Cosa sia la teoria dei giochi Suppongo Non lo so Sì Ok perfetto Allora possiamo fare un discorso Un po' più serio Cioè quando si fa teorie dei giochi Non esiste soltanto Il gioco con minaccia Che è Importantissimo Ci mancherebbe Fortunatamente abbiamo avuto Un genio come John Nash Che ha praticamente Rivoluzionato tutto Ma dopodiché Esistono anche I giochi competitivi E i giochi A collaborazione No Pensiamo ad esempio La situazione Dell'autostrada O comunque di una superstrada Che ha una terza corsia Di sorpasso Essendo che tutti Vorrebbero andare Sulla corsia centrale Per sorpassare Qual è la soluzione? La soluzione è che qualcuno imponga Una situazione In cui per x chilometri Sono due corsie a destra E una a sinistra E per x chilometri Accade il contrario Quindi diciamo che Metterla solo su quel piano Anche qui dal punto di vista accademico A me sembra Interessante Ok Ma sicuramente Non omnicomprensivo Cioè manca L'altra parte dell'analisi Volendo buttarla proprio soltanto Su un gioco Anche a somma zero Banalmente Ecco Però non puoi Non puoi Non puoi fare questi discorsi Senza dare un pregresso Perché è l'errore che fanno Tanti comunicatori Che sono estremamente competenti Ma partono dall'alto Orsini Che vuole fare il professore in cattedra Lo vedi subito Che abbia la gestualità Del professore in cattedra Sempre le stesse cose Sempre le stesse posizioni Che abbia il tono di voce controllato Quando si vede Che vorrebbe Strappare a morsi La faccia di quello davanti È una posa Allora O decidi Di salire in cattedra E far vedere Che tu vali più degli altri Ed è quello forse Il problema Nel narcissimo Di tante persone Me per prima Di fare determinate cose Lo sto facendo Da un certo punto di vista Anche qui oggi Però Ti fermi e dici Aspetta Ti spiego da dove partiamo Se non spieghi Da dove partiamo Non ce la fai Se non spieghi che Umberto se tu non spieghi Parti e dici Guarda Io la vedo Da un punto di vista Di teoria dei giochi La teoria dei giochi Che vado a vedere È questa Da questo punto di vista Dobbiamo partire da qui Poi magari Non è nemmeno colpa sua I tempi televisivi Sono una bestemmia E quindi magari Nel cercare di comprimere Si toglie le premesse E qua Qua però Sì Matteo però Scusami Matteo Sui tempi televisivi Io qui aprire una parentesi No? Perché in Italia Sembra quasi che Ci sia una certa Dinamica di racconto Che trova uno spazio Che è maggioritario Relativo O assoluto Che dir si voglia Dopodiché Al povero Proforsini A chi la pensa come lui O chi vuole portare Una visione simile alla sua Ok? Viene concesso poco spazio Quando la realtà Purtroppo Devo dire È l'esatto opposto Ovvero Che a Professor Rossini Vengono lasciati Ampi Spazi di manovra Sebbene magari Il primo intervento Non è così Ok? Quello che ha Diciamo Dato il via Alla sua ascesa Nel discorso pubblico È vero Il contrario Ovvero che Nelle altre situazioni Ha avuto tutto il tempo Di esprimersi Ok? Se tipo andiamo a vedere Ad esempio Il dibattito con Cecilia Sala Cecilia parla molto di meno Volendo guardare E anzi Viene messa In un'ottica Che secondo me È molto intelligente Cioè Molto intelligente Se io voglio fare Un dibattito E voglio dare ragione A una certa persona La posso mettere così Ovvero Professor Rossini Racconta una cosa Per cui è vera Dopodiché Viene dato spazio Ad altre persone Per contro argomentare Quando in realtà Il dibattito scientifico Avviene Proprio Al contrario Ovvero C'è un certo Stato dell'arte Quindi tu Devi fare Il controfattuale Se dimostri Il tuo controfattuale Allora hai super ragione Cioè ci mancherebbe E invece Sembra quasi Che la sua retorica Sia quella dominante Corretta Che però Il mainstream Non accetta E quindi bisogna Dargli spazio È una narrazione Corriante a mio avviso È arrivata una domanda Da Mirko Da Parabellum Che ci sta seguendo E chiedeva Di chiedere A Matteo Del security dilemma Lascia perdere Dai Che se no Andiamo Andiamo da No perché dice Che Dice che Che non si Non si conosce Il security dilemma Non si comprende Il discorso Di Orsini Sì Oddio La parte Del security Increasing measures Lead to tension Cioè più si alzano Le parti di sicurezza Più si alza La tensione E l'escalation Ai conflitti Sì e no Nel senso Sì Ha ragione Ma qua il problema Non è Si capisce O non si capisce Orsini Qui il problema È un altro È Lui si è messo Dal punto di vista Di farsi capire O no Perché è lì Il problema vero Perché allora O si mette Da un lato Parabellum E dall'altro Orsini E uno dice Funziona in questo modo E l'altro gli dice No perché Che la teoria Opposta alla tua È questa Ma se tu metti Da un lato Uno che approccia Le cose in maniera Tremendamente ideologica E dall'altra parte Metti qualcuno Che la prende Tremendamente ideologica Ma ideologica pratica Cioè se tu metti Una Metti Cecilia Contro Alessandro È ovvio Che non riusciranno A parlarsi Perché partono Da punti di vista Completamente diversi Riesco A spiegarmi Sì Prendi Gino Strada E prendi Un professore Di teoria Dei giochi Non parleranno La stessa lingua E posso anche dire Un'altra cosa Perché Anche dire Tipo ad esempio Se io prendo Ecco una cosa Che a me non piace Del dibattito pubblico Onestamente È che io prendo Un professore Ok Che quindi Già come professore Noi sappiamo Che l'ipsedix Italiano Piace un botto Ok Per tutta una serie Di discorsi Di reverenza E quant'altro E la metto Con una giornalista Non ci piace Non ci piace Perché Perché La giornalista È la giornalista Professore Professore Invece metti Che ne so Orsini Che giustamente Avrà la sua idea A dibattere Con un altro professore Cinque minuti a testa In modo tranquillo Pacato Con una Diciamo Con una gestione Che per quanto Abbia la sua ideologia Entrambe le gestioni Però diciamo Faccia rispettare Quanto meno i tempi Sai che non lo so Perché Dovreste parlare E con Ruggero Orollini Un altro Divulgatore Un altro Di Allert Ti racconterebbe Che Conoscere La scienza Spiegare E insegnare La scienza E divulgare La scienza Sono cose Molto diverse Tra di loro E non è detto Che qualcuno Debba avere Anche se ha Competenze di dominio Enormi La capacità Di fare Tutte e tre Esistono adesso Delle specializzazioni Dei master E proprio anche Credo un biennio Di comunicazione Della scienza Di divulgazione Della scienza Ora Se non hai Questa base comune È sempre Un problema Di comunicazione E di una parte All'altra Tant'è che Alcuni Di questi Funzionano meglio Ad esempio Meglio di Orsini Funziona Più o meno Tutto Ah lo dicevano Anche nei commenti Il comparto Di Limes Ma perché? Perché stanno Molto più attenti Al divulgare Determinati tipi Di concetto Piuttosto che Semplicemente Studiarli Questo è vero Ecco perché Ad esempio Limes Ha molto più successo Di Ispi Banalmente Anche se Ispi Si sta migliorando Mia madre Mi scrive sempre Queste tre settimane È diventato Super top Mia madre Mi scrive spesso Invitate quelli Di Limes No io devo dire Che C'era Mirko E voleva Se per voi va bene Venire giusto A puntualizzare Una cosa Su questa Faccenda Io non ho niente Il contrario Se va bene Matteo Io sicuro Più gente c'è Entrino Entrino Più gente entra Più bestie si vedono Eccolo qua Ciao Matteo Ciao 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 Matteo Guarda Io trovo Il discorso di Matteo Molto giusto Secondo me Ha colto Proprio il punto Cioè Io credo Che Orsini Dia per scontato Che il pubblico Forse perché L'abbiamo detto Anche dietro Ieri in live Con Boldrin Cioè il discorso Che Orsini Probabilmente Dà per scontato Che il pubblico Conosca Quello di cui Matteo Stava parlando Ora Cioè I security dilemma Abbiano Diciamo Un bagaglio Di un certo tipo Forse perché Abituato ovviamente Nel suo ambiente Questa è una cosa Tipicamente Universitaria Se te ricordi Ne parlavamo anche ieri Francesca Cioè Sono abituati I professori A parlare Nel loro ambiente E quindi Danno più scontato Che dall'altra parte Ci sia qualcuno Che già sappia Di cosa stai parlando E quindi abbia Diciamo Un bagaglio di nozioni Tali Da comprendere Quello che dice Siccome nella Geostrategia Come dice Ti butto una cosa In più E poi ti lascio finire Ti butto una cosa In più Non è detto Stakeholder analysis Non è detto Che a Orsini Gli ne fotta niente Del pubblico Ah no Ecco E lui sarebbe Solo parlare A 20, 30, 50 persone Con cui lui Vuole lavorare Perché Questa visibilità Gli consente Di andare a parlare Chiusa È un'ipotesi Sì Le ragazze Ieri Abbiamo fatto Ieri Che ogni volta Che posta qualcosa Non mi ricordo Se su Twitter Ci mette la foto Anche su Facebook Per un discorso Su Twitter Non segue nessuno Ok È molto narciso Questo discorso Esatto Tipico Però vabbè Esatto E come dici Ti è molto professorone Però da per scontato Che dall'altra parte Ci sia un pubblico Poi se vai in tv Insomma dovrebbe capire Che dall'altra parte Un po' come diceva Montanelli Tu devi spiegare Come se tu spiegassi Alla massaglia Di Voghera In questo senso Qui Da per scontato Tutta una serie Di concetti Molto alti Anche difficili Che invece Al pubblico Diciamo Di maggioranza Non conosce Quindi suonano strani Ti dicevi bene In geopolitica In geostrategia Non c'è Non c'è un fattore Ideologico O di moralità Bisogna ragionare Molto a freddo Sulle questioni Geostrategiche Ma pensa alle bestemmie Dei tuoi video Che hai dovuto fare Le decine di video Che hai dovuto fare Per spiegare I concetti basilari Per poi poter dire Altre cose Esatto Scusate che Spengo il cellulare Perché Storia Ero arrivato abbastanza così Mi ha chiesto Ivan di entrare al volo Sì Il discorso è questo Secondo me Lui dà per scontato Questi concetti E quindi È difficile Comprendere Qual è il punto Della sua analisi Se tu non conosci Questi concetti Alla base Poi è vero Che faccio il repicking Io ho fatto l'esempio Dell'esercitazione Esercitazioni in Nato Che lui dice Ci sono queste esercitazioni in Nato Il fatto è che Se non le Racchiudi Dicendo esattamente Che numeri C'erano In queste esercitazioni in Nato Erano fra le 800 E le 1500 persone Uno pensa Ammazza Esercitazioni in Nato Si stanno organizzando Per avere la Nato In Ucraina Quindi lui Io Penso Volutamente Perché un uomo Della sua preparazione Non dice certe cose Scordandosi Il fattore numerico Involontariamente Lo fa perché Cerca di Portare avanti Una tesi Il problema Sai qual è? È che secondo me In queste trasmissioni Invece di invitare Il politico Dovrebbero invitare Un Dario Fabri Davanti E allora Vedi come La teoria Di Orsini Comincerebbe A non reggere E questo c'è anche il fatto Per esempio Si rifiuta di venire Da Ivan Grieco Di fare confronti Che non siano in tv Perché in tv Giochi facile Diciamolo chiaro Di solito davanti Non hai delle persone Competenti Però almeno Puoi sapere Chi sono gli ospiti Tutte le volte Che sono andato io In televisione Sapevo chi era l'ospite E quindi Probabilmente Da tattico Va a scegliersi Anche degli ospiti Che in realtà Non riescono A tenere botta Sul discorso E siccome L'abbiamo visto È anche molto vanitoso Secondo me L'altra volta L'altra volta C'era Cecilia Sala Che però L'hanno fatta parlare Pochissimo con lui Secondo me Cecilia Sala Sarebbe stata in grado Di metterlo un po' Alle strette E ma ancora una volta Sì Metterlo alle strette Sì Non a controbattere Sul suo piano Non è detto che un piano Sia più importante Dell'altro Cioè se io devo scegliere Un piano Non prendo quello di Orsini Tra i due Però Non su quella parte Devi prendere Qualcun altro Che ha quel dominio Di preparazione Cioè che parla La stessa lingua Praticamente Sì Lo stesso Lo vediamo Anche i media Cosa fanno Alla fine i media Non lo attaccano Sulla tesi Cioè sul punto Perché non sono in grado Dicono Vabbè Questo dice cose strane È un filo poteniano Poi sapete un'altra cosa È il gioco delle parti Sempre dal punto di vista Comunicativo Una cosa che fa Molta la differenza Secondo me È il modo In cui lui Parla Il modo pacato Che sembra sempre Capito Rimanere calmo Caruccio Coccoloso E questa cosa Viene molto apprezzata Però sai che cosa Ivan Che ti ricordo Dai Adesso Facciamo un po' Di analisi Del soggetto personale Umberto Bertonelli Che mi incazzavo Anch'io tante volte In verità Se tu ci pensi Col fatto di stare Un po' più tranquillo E tirare la blastata Tranquilla Ci stiamo Guadagnando molto di più Volendo guardare E effettivamente Certo È che la gente Che seguiva Questo canale Apprezzava Le mie balastate prima Le apprezza anche oggi E ha un godimento minore Però banalmente Sono più sopportabile Per i soliti hater Quindi Ci sta tutto Però tu immagina Almeno Io parlo su Ora qui Vabbè Twitch è diverso Però su YouTube Se Nel confronto Tra Michele E Odifreddi Se Michele avesse Mantenuto Un po' più la calma In quel caso Michele avrebbe Stravinto Secondo me Quel confronto Perché a livello Di argomentazione Michele Ne ha date Di migliori Secondo me Ma anche Secondo il pubblico Sì Odifreddi Era più retorico Diciamo Anche poi Io vi sto Anche Però la retorica È parte È parte importante Di un Una dissertazione Anche accademica Cioè la parte retorica È parte stessa Della preparazione Che tu vai a fare Per discutere Alcuni Alcuni dicono Sembrano Psicopatico Perché è calmo Ma questa calma Che è la stessa Lo diceva qualcun altro Nei commenti Di travaglio E il lessico Quando vuole Criptoforbito Alla fusaro Quando vuole Perché è benissimo In grado Di utilizzare Lessico Semplice Sono Sono artifici retorici Che vengono utilizzati Mi dai Poi Rimanere calmi Cioè Anzi o meglio Cadere nella provocazione E quindi alzare i toni E magari andare Anche un po' Eccessi Un po' oltre Significa Dare adito A Di quelli Che appunto Difendono a spada tratta Perché ci sono le bimbe Di Orsini Ci sono le bimbe Di tutti Lo sappiamo Però se tu Rimani calmo Non gli dai Cioè Tu li costringi Ad andare sui contenuti E sui contenuti Non hanno nulla da dirti Perché se ci fate caso La maggior parte Dei commenti Della gente Almeno nei casi nostri Quando abbiamo fatto i confronti Ti va a parlare sempre Del modo in cui uno si pone Non delle argomentazioni Certo Perché se tu hai bimbi di Orsini Non gli metti di fronte a uno Che gli urla in faccia Gli dice Sei un rimbambito E lo agnenti Con le argomentazioni Quelli non avranno Nulla a che dire Penso di fatti Ma io infatti ho visto Una polarizzazione Nel senso Tu vedi Chi dà ragione a Orsini Non perché capiscono Quello che sta dicendo Semplicemente perché Viene percepito Come un discorso Anti-narrativa Diciamo Mainstream Occidentale Esatto Più che mainstream Occidentale Per partito preso Orsini guardate È molto contestato Perfetto Io sono con lui Indipendentemente Se capiscano esattamente Di cosa stia parlando Io l'ho notato Perché ho guardato Gli interventi Di Orsini Alla 7 Leggevo i commenti Sotto alla 7 C'era un sacco di persone Che davano ragione A Orsini Ma senza capire Quello che stava dicendo Semplicemente Perché era contro E questo è un tipo Di polarizzazione Che in Italia Avviene Avviene molto Qui si potrebbe parlare Di Comprensione E capacità Di fruizione Dei contenuti Dello spettatore Secondo me è meglio Sforzo cognitivo Il primo assioma Della programmazione Neurolinguistica Che dice Ciascuno fa il meglio Che può Con le risorse Che ha a disposizione Cioè le risorse Che hai Intenzione Non che le hai A disposizione Non è che sei Analfabeto Non tu In generale Analfabeta Ma le risorse Che vuoi spendere Per parlare Di questa cosa Sono poche E lì ci torna Una delle cose Scusatemi Perché continua C'è qualcuno Che continua A fare la stessa domanda Dice Matteo Ma tu dicevi Potrebbe avere ragione In che senso No io dicevo Che la cosa Che dà fastidio È che potrebbe Avere ragione Orsini Assolutamente Non ho detto Che ha ragione O meno Ho detto Che potrebbe Avere ragione Che questa cosa Gli dà Uno Quella parte Di supporto Da bambine Di Orsini Del E lui è contro Vedi che c'è Un'altra realtà La dice il professore Indipendentemente Dal fatto Si capisce o meno E dall'altra parte Gli dà Quel Tono Del Vedi che c'è anche Un professore universitario Che dice queste cose Chi sei tu Per andare contro L'ha detto prima Mirko Di nuovo All'Ipse Dixit Esatto Esatto Chi sei tu Che c'è anche un sottotitolo Il genio Che in realtà Ha capito tutto Contro tutti gli altri Che poi lui Riesce anche molto A vendere Con questo modo Molto Freddo E anche un po' Narcisista Di 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 Porsi Il sottotesto È anche quello Questo è Da solo Contro tutti Si ormai Abbia ragione E quindi Avviene questa polarizzazione Invece secondo me Andrebbe sconfitto Nel dettaglio Cioè di quello che dice Il problema è che hai bisogno Di un Dario Fabri Hai bisogno di un qualcuno Che mastica Il linguaggio Di Orsini E le dice No guarda Questa esercitazione Aveva questi numeri Questa è la fonte Quindi non puoi usare questo Per portare avanti La tua tesi E in tv Questo non avviene Che gli dica Stai dicendo Uno scroscio di puttanate Ma invece che dire Queste parole Gli dica Guarda Non mi Non mi Non mi pare Perché Il La teoria Di Tizio e Caio E Le I dati che abbiamo Dal report Del 2019 Su questa cosa Dicono una cosa contraria Cosa mi sto perdendo Che è La stessa cosa Di dirgli Stai dicendo Uno scroscio di puttanate Ma nello stesso Con lo stesso Ipsedixit Dietro Ma scusate Io credo che Orsini Venga invitato Ora Più che altro Perché crea Movimento Crea Cacciara Tipo non puoi Con tutta l'onestà Non puoi mettere Orsini A discutere Con un ragazzo In Ucraina Che ovviamente Ha una visione Molto emotiva E molto personale Della cosa È un discorso inutile Cioè non serve a niente Mettere una persona Che sta parlando Di giochi E teorie E dall'altra parte Ci metti un ragazzo Dall'Ucraina È ovvio Che finirà malissimo Quindi questa è una volontà Di certi talk show Di creare L'audience In una maniera Anche un po' bassa E un po' becera Sì allora C'è chi dice Che è il nuovo Sgarbi Io ti dico Un'altra cosa Mi assumo La mia responsabilità È più La nuova Angela Da mondello Ricordate Non ce n'è Covid A un certo punto È diventata Una ruota Che si autoalimentava Del fatto che I show I visivi Vogliono La macchietta Ok Poi la macchietta Può essere Molto brava A Sgarbi Che parla di arte Che è Dio Dal mio punto di vista Di ignorare Assolutamente Lo condivido Io sono sempre Affascinato Quando parla di arte Poi quando lo vedi Fuori da quell'ambiente È un animale Da palcoscenico Eh ma sai Che mi ha detto Cioè C'è qualcun altro Che su Youtube Disse che Non se ne intende Particolarmente Di arte Ah boh È possibile Io Cioè Ho bisogno di qualcuno Che se ne Che di cui mi fido E che Io da profano Attenzione Quando parla d'arte Anch'io da profano Attenzione Ho detto forse Una cosa Brutta Ma che forse Spiega un paio di cose Eh Ho bisogno Non di qualcuno Di più bravo Che mi dica Che se ne intende Ho bisogno Di qualcuno Di cui Mi fido Che mi dica Che non è bravo La prima è fiducia Halo effect Quindi il fatto che Travaglio Abbia fatto entrare Orsini Al fatto quotidiano Gli ha restituito Praticamente Gli ha ceduto Gran parte della visibilità Lo legittima Rispetto a Quella parte Che gli torna più comoda Ricordiamoci che Orsini È Uscito dal messaggero Tra parentesi Il messaggio di uscita L'avete visto Non è stato il Mi dispiace Per i lettori Mi dispiace Per quelli Che si erano abbonati Solo per Solo per me Sì io l'ho trovata Abbastanza cringe Ok Un termine che piace ai giovani Si è tolte Nello stesso giorno Passa al fatto Quindi significa Che l'aveva già preparato E perché aveva preparato Perché ha deciso Che con quella narrazione Il posto dove stare Per avere eco Era quello Dei contrarian In questo momento Del travaglio Di turno Si lo vedi anche Con la linea di travaglio Io mi ricordo L'intervista C'era travaglio C'erano i fratelli Gili Uno dei fratelli Gili Praticamente Travaglio ha fatto Un monologo Mi ricordo Quale dei due fratelli Gili Aveva parlato Sì o no Due minuti Per dire Cioè Hai un tecnico Da una parte Da una parte Un giornalista Il giornalista Parla per un quarto d'ora Di geostrategia Perché travaglio Porta il pubblico Porta l'audience Esatto Ma alla fine Alla fine Non ci dobbiamo Nemmeno tanto Incazzare Secondo me Perché Negli show Che noi Dove vediamo Orsini Qual è l'obiettivo È fare informazione O è portare audience Perché se è portare audience Loro fanno la cosa giusta Ti portano Orsini In turno E domani Se arriva qualcuno Che rimane Pisello fuori Col tatuaggio Io amo Putin Ti portano Il tizio Pisello fuori Col tatuaggio Io amo Putin Sai cos'è Matteo Forse noi diamo Anche troppo Troppa importanza Cioè alla fine Per fare informazione C'è il telegiornale I talk show Servono a fare show Appunto Forse siamo noi Che dobbiamo accettare Questa cosa Sai cos'è Ivan Ivan dal punto di vista Televisivo Se tu li metti Davanti a qualche esperto Di geostrategia Li vedi Cominciare a parlare Con paroloni Si intendono solo loro Al pubblico a casa Non porta molto E quindi dal punto di vista Televisivo Vedere due professori Che parlano di geostrategia Beh La gente cambia canale Diciamocelo chiaro Quindi secondo me Onestamente In tv Non sarebbe neanche L'ambiente corretto Dove portare certe tesi Quindi Il fatto che Orsini Lo faccia Lo fa ovviamente Per Tutta una ragione Molto diversa Dallo spiegare le cose Ma più per un Credo un guadagno Personale E di visibilità Io facevo un'ipotesi Però Che lui sia arrivato A flooring Di dove può arrivare Cioè lui Più di così Con quello che ha A disposizione Eccetera In ambito accademico Non sale Deve riuscire ad ottenere Perché probabilmente Lo vuole Un po' come Lo vogliamo io Lo vuole Ivan Un po' C'è il fatto di essere Un po' più importanti Nel mondo Per cambiare le cose E non per Per cose Però Nel senso Ciascuno di voi Vuole avere un po' più Di impatto Lui ha trovato questa cosa Ha visto che funziona E ha un suo fine Il cui protest A chi giova Lo dobbiamo fare Lui Allora sì Stai dicendo una cosa Molto interessante Perché lui Il massimo che può ottenere Cos'è La cattedra di ruolo E quindi sarebbe Apicale a quel punto Eh sì E' già associato E' vera per anzianità Questa visibilità Li porterà Insomma Li gioverà Qui protest Giustamente Poi anche lì Cosa ne penso io Del CV di Orsini Ti chiedevano Dipende Da che punto Esatto Io volevo capire Perché qualcuno Parlava dell'age index Effettivamente Sono andato a vedere Era un age index Molto basso 12 Dopodiché però C'è un problema Nell'age index Perché sa Come funziona L'accademia Ovvero Che dipende Sostanzialmente Da quanto Hanno gli altri Di age index Perché tipo Vai a prendere Uno come Monacelli Mi pare che abbia Un numero così Però è un monetarista Pubblica solo Sulla moneta E quindi Essendo che ce ne sono Gran poche Che pubblicano In quell'ambito Ha un age index Che tutto sommato È molto alto In verità Non solo Lui coordina Ricordati In relazione A quanti Si occupano Anche di quelle cose Cioè è difficile Dare anche un valore A uno che si occupa Di una cosa Particolarmente Di nicchia Allora Andiamo a prendere Andrea Gilli Però scusate Michele ieri Diceva anche Un'altra cosa Cioè che c'è proprio Una valutazione Diversa Sulla questione Delle scienze politiche Sì Sze scienze politiche Rispetto Che è Hard science La medicina Eccetera Sì Hanno un valore Differente Differente Esatto Infatti Ha 4 su scopus No lui Contano più le citazioni Diceva ieri Michele In questo caso Vabbè Però scusate Anche questo gioco Umberto 419 contro 344 Anche questo gioco Umberto Di attaccare il curriculum Lo trovo abbastanza inutile Vediamo quello che dice Magari Esce fuori uno Che non c'ha nulla Non ha tirato fuori Nemmeno un paper Però ti fa un'intuizione Geniale È un genio della madonna Quindi sentiamo Quello che dice Smontiamolo per quello che dice Non per il suo curriculum A me questo mi sembra Un gioco A tentare di sminuire Un attacco personale Più che Ai contenuti Che porta Ma non solo Mirko Io sono d'accordo con te Però da quel punto di vista Uno ti dice La tua teoria Perché è anche una teoria Meravigliosa Se non è acclarata Nell'accademia Ti ci puoi pulire Non ti dico che cosa Io la vedo dal punto di vista Del quanto è bravo a spiegare Perché lì Non è che in televisione Vai per raccontare Quella finezza macro O microeconomica Che ti porterà Al Nobel O che ti porterà Alla medaglia Fields Vai a raccontare Uno scenario Ora io conosco Ricercatori Pessimi Non fatemi dire i nomi Però ricercatori Pessimi In università Che sono degli insegnanti Della Madonna Che stai lì Ad avanti E io rivado A vedere le lezioni Con la bocca aperta Per capire Come insegnano Io Per gestire la cattedra Contatto Ho seguito L'ira di Dio Di Gazzoni Perché avevo paura Di non saper spiegare E spiegare È difficile Cioè A me basta Che sia Un bravo spiegatore Magari Un pessimo Ricercatore Qualcuno fa il nome Di Barbero Forse sì Forse Barbero È un ottimo Divulgatore Non so quanto sia Un ottimo storico Tanti dicono Che non è un ottimo Storico Non lo so Però è un ottimo Divulgatore Io voglio quelle persone Adesso In un momento In cui abbiamo Tanta 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 Tanti dubbi Soprattutto sul capire L'altra parte L'avversario Shaitan In senso etimologico Spiegamelo Se sei bravo A spiegarmelo A me Del tuo H-Index Non ti dico Cosa mi ci pulisco Non lo so Io credo che su Barbero Ci sia anche Un certo fraintendimento Nel senso Si confonde sempre Il Barbero Divulgatore Dal Barbero Ricercatore Io uso sempre Questa Questa analisi Che ha fatto Degli amici miei Del canale In geopolitica Veritas Che saluto Dove facevano vedere Le recensioni Dell'ultimo libro Che va scritto Su Dante Le recensioni Sono tutte Estremamente negative La gente dice Un libro Pieno di riferimenti Tristi Un Barbero Irriconoscibile Perché la gente Si sbaglia Tra il Barbero Divulgatore E il Barbero Storico Serio Che fa un libro Estremamente accademico E quindi Secondo me È proprio lì Il taglio Della falce Bisogna distinguere Fra divulgazione E ricerca storica Ci sono dei professori Con un curriculum Anche migliore Di Barbero Che però Dal punto di vista Dialettico Non sono in grado Di intrattenere E quindi Per il grande pubblico Beh Valgono poco Perché non hanno Quel tipo di visibilità Questo è anche Un discorso Che faceva Bressanini Lui diceva Che quando lui Cominciò ad andare Su Youtube Ebbe parecchia opposizione Anche in ambiente accademico Perché diceva Youtube Vai su Youtube Ma è una cosa degradante Eccetera Poi quando ha cominciato A avere mezzo milione Di iscritti A salire Gli altri L'hanno seguito Beh allora Il discorso Ha cominciato a cambiare Questo è un discorso Che facevamo molto Anche con Aldo Giannulli Sul Sul fatto che L'accademia Tende a chiudersi Su se stessa A denigrare Qualsiasi cosa Che non sia Parte di quel circolo E invece Dovrebbe prendersi Anche la responsabilità Anche di Confrontarsi Con chi fa Cattiva divulgazione Anche su internet Perché se stai solo A criticare E a guardare È la simpatia È la simpatia Tipo perché la gente Ha votato Berlusconi Secondo me Larga parte La gente ha votato Berlusconi Perché stava simpatico Vabbè lì è anche Rotten effect Però attenzione Perché l'imprenditore Di successo Che quindi Magari all'inizio Se ha fatto soldi Lui farà fare soldi Anche noi Era la simpatia Ha retto Così tanto tempo Secondo me Anche per la simpatia Tant'è vero Che le barzellette Di Berlusconi Fanno ancora Il giro del web E tra l'altro Ma non è solo lui Anche Reagan Raccontava un sacco Di barzellette Sì 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 Soprattutto sulla Russia Sì Bellissimo Quindi non è una cosa Che si è inventato Che si è inventata Ragazzi Poi quelle barzellette Non le abbia Non so se già Non so se già L'avete detto Quando mi ero alzato Un attimo Ma pure il fatto Che Orsini Per tornare un attimo A lui Abbia diciamo Accettato Di andare a fare Questa rubrica Sul fatto quotidiano A me Lascia un po' perplesso Insomma Non lo so Beh perché Ha più visibilità Del messaggero Molta più visibilità Del messaggero Lo mettono in home page Lo rilanciano Se tu cerchi visibilità No però fai capire Cioè C'è anche meno controllo Le posizioni che ha Il fatto quotidiano In tanti ambiti Sono chiare Cioè quindi lui C'è anche meno controllo Scegliendo quella Quella casa lì Comunque sia Ha fatto una scelta Ha preso una posizione In vari ambiti Secondo me Non so se l'avevi sentito Ivan Ma anche Bressanini Scriveva degli articoli Scientifici Sul fatto quotidiano E poi se ne andò Perché Entrò in contrasto Perché diceva Che pubblicavano anche Degli scritti Di gente Che sapeva Assolutamente niente Di quello Di cui parlava Senza nessuna Nessun paper dietro Nessuna copertura Di fonti E lui dice Io non posso stare In quest'ambiente Dove da una parte Io faccio Degli articoli scientifici Da una parte Ci sono dei ciarlatani E la risposta Che diede L'allora Direttore Che non era Travaglio Era Gomez Li disse Vabbè Non è fatto quotidiano Diamo la parola A tutti Quindi c'è anche Un controllo scientifico Molto Come il Movimento 5 Stelle Uno vale uno Diamo Tutti hanno Ma sì Ma come Bio Blu All'epoca Dai Cioè nel senso Io do Voce a tutti Non riesco a capire Perché continuano A chiedere Sì quello dietro È un poof Di zanotte Sì questa è Una barrier Gravity Così Continua a girare Ce lo siamo tolti Ovvi Secondo me Il fatto quotidiano Ci sta Deve vendere copie A un professore Sulla cresta dell'onda Che si può acquistare Poi tra l'altro Non so Quanto lo paghino Perché io so Di persone Che scrivono Anche professori universitari Anche in vista E non vengono pagati Per scrivere Sui Sui vari giornali Ma guarda Anche quando ti pagano Sui vari centinaia di euro D'articolo Esatto Quando va bene No no Aspetta C'è un'altra Molta famosa Andata in televisione Che viene pagata 10-15 euro No attenzione Dividete però I guest post Cioè quelli che ti chiedono Con Quando fai una certa cosa E Il giornalista Il giornalista Prende 2-3-4 euro A post Ad articolo Fino a 10 A me Quando chiedono I guest post Sono parecchie centinaia di euro Per singolo post Tranne quando gioco Quando qua gioco Perché mi diverto Come ad esempio Con formiche A me piace E non vengo pagato Per scrivere Però aspetta un attimo Fai un post Sulla tua pagina Per loro Che allora No 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 Faccio un articolo Per loro Un articolo Per loro Che poi viene venduto Chiamato perché vogliono L'articolo A firma di Perché devono parlare Di determinate cose No 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 Io invece parlavo Di un'altra situazione Ovvero Di una persona Che è nota Ok Che scrive Su un editoriale Un quotidiano Può essere Migliaia di euro A pezzo C'è gente che ci fa Uno stipendio Con solo quello La Lucarelli È una di quelle Selvaggia Ha come fonte di reddito Il fatto di scrivere Sui giornali dove scrive Ma come tanti altri No 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 Complimenti a lei Che sei riuscita A crearsi questa figura Dal quale Io Io non disprezzo mai Le persone che riescono A fare i soldi Anzi Però dopo di che Riesco a distinguere Determinati Determinati Ecco Aggettivi Ecco Chiamiamoli così Senza andare Poi nel dettaglio Per me Dipende sempre Come li fai I soldi Nel senso Beh Certo La cosa che mi ha divertito Tanto È stato Divertito tanto Sul fatto quotidiano Il fatto che Scanzi L'abbia attaccato Ora Io non so Quanto conoscete Le dinamiche di redazione Ma il fatto quotidiano È diventato famoso Perché un ordine di scuderia È proprio quello Di non attaccare Gli altri Nella scuderia È proprio uno Degli ordini di scuderia Infatti mi ha Molto 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 La vedo dura Infatti io Tra l'altro ieri Ero a cena con Costantino E ne abbiamo parlato Pure di Di Scanzi Che comunque Si è molto discostato Dalle opinioni di Travaglio Eccetera In questo ultimo periodo Questa cosa Bisogna Renderne atto Ecco A Scanzi Che abbiamo spesso Criticato Però in questo caso Ma sai È un po' Cioè Il Il gioco Del Non posso Non facciamo i nomi Vabbè dai Il gioco dei detersivi Se tu guardi I detersivi per I detersivi generalisti Ce ne sono cinque o sei Di cui cinque sono della stessa marca Cioè sono la stessa controllante Che non fonde però Perché si rivolgono Anche a prodotto uguale A dei pubblici diversi Con dei pricing diversi A una o due voci Che sono Contro al padrone Ma entro i limiti Di quello che è consentito Fanno comodo Sempre E quindi rimangono all'interno Come rimanevano Nelle squadre mediaset Quelli che facevano Le battute Contro Contro Berlusconi O che la attaccavano Contro Berlusconi Entro dei limiti Preordinati E Scanzi Secondo me È ancora in quei limiti Ciò non significa Che sia al soldo di Sto dicendo solo Che secondo me È ancora all'interno Di quei limiti Qui c'era una citazione La striscia la notizia O le iene Perché ogni tanto Qualche libertà Se la prendevano Poi però Molte iene Sono finite male Perché qualche libertà Di troppo Se la sono presa Va bene Basta Direi che abbiamo esaurito Le domande Prima qualcuno Ti chiedeva Una tua posizione Cioè Un tuo pensiero Sull'Ucraina Non so se L'hai mai Espresso Il mio pensiero Sull'Ucraina Ma che cazzo Ne so io Dell'Ucraina Ragazzi ma chiedetelo Alla gente in gamba Il pensiero Sull'Ucraina Dal mio punto di vista Sei d'accordo Con l'invio di armi All'Ucraina Dal punto di vista Di Matteo C'è il Frega niente Della terza guerra mondiale Le persone si salvano Il posto di Matteo Ok Ma è un pensiero Di merda Ok Perché Da un certo punto di vista Se dovessi pensare Come un governante Penserei a Qual è la soluzione Che mi tiene fuori Dalla guerra Ok Però Sentirete Quella di Matteo È il Dategli un cazzo Di fucile E dategli una munizione Per ciascuna Di quelle munizioni Che gli servono Ma non conta niente Perché è fatta Con il È fatta con la pancia Non è fatta Con la testa Però io Faccio una domanda Giusto per questo punto Ma Secondo voi Sono tutti scemi Quelli che inviano Armi all'Ucraina Se li inviano Evidentemente Hanno Una buona garanzia Comunque una buona Possibilità Probabilità Che non Non succeda nulla Insomma Cioè O che sarebbero I prossimi O che Qualcuno Lo fa anche a scopo Politico Oh però Cioè Tutti che dicono Cioè Molti dicono Putin non è uno Sprovveduto Eccetera Proprio perché Non è uno Sprovveduto Non è che si mette Ad attaccare L'Italia Voglio dire L'Italia no Ma la Polonia È così O la Moldavia Sono così Al sicuro E A chi interessa Qui protest Polonia o Moldavia Ricordiamoci che hanno Un'armata In Transnistria No La Moldavia È molto più semplice La Polonia Entri in No La Polonia è nato Però Moldavia Georgia E altri stati non nati Romania Qui è Parabellum Che ce lo deve dire Noi siamo Gli ospiti qua A questo punto Però Però A chi Che interessi hai In quelle parti Vi ricordo che Renault Ha riaperto Gli stabilimenti In Russia Oggi Vabbè Anche L'Omerlena Non l'ha chiuso Sì ora C'è un dietro fronte Anche Apple Sta riconsiderando La situazione Quindi Sull'entusiasmo iniziale Bisogna vedere Sul lungo termine Se durano Queste imposizioni Quando Quando cominciano A fare i calcoli Sul danno Anche a se stessi Quanto dura Scusate Eleggevo La Moldavia La possono occupare Con sfucigli Da soft air Che non è male Come idea Sì Però Aspetta un attimo La Moldavia Non ha la capacità Di resistenza Avete tirato in ballo Due cose interessanti Allora Primo È l'automotive Che è super collegato Con l'Ucraina Quindi È abbastanza Diciamo Normale Quasi Che si sia Riaperto Ma la cosa più importante È Volkswagen Perché è Volkswagen Che poi vende in Cina E quindi La catena del valore Si legge su Questo giro Doppio carpiato Che fa Volkswagen Con la Cina Perché praticamente Vende Un bel po' Del reddito Di Volkswagen Deriva da questo E in secondo luogo Ancora i chip E i semi lavorati E i semi conduttori Scusatemi Girano tanto Sull'Ucraina E sulla Cina E quindi ovvio Che Apple Magari Ritorni a pensarci La cosa che mi testa Invece Cioè La Russia Non ha mai attaccato Nessuno Questo è un fatto Sì Scusate Avevo condiviso Un post Post di Mentana Che ha fatto Per Per blastare Il presidente Della commissione esteri Del senato Vito Petrocelli In quota Movimento 5 Stelle Che poco prima Dell'invasione di Putin Ha fatto questo post Mai sentito Di Finlandia Winter War Fatto molto Troppo occupazione Ricordo che La Russia Non è in guerra È un'operazione Militare speciale Non ha mai Stato Per quello Quindi non ha attaccato Nessuno Sì Dicando come la racconti Anche perché L'Ucraina non esiste Non esiste l'Ucraina Ragazzi Basta E infatti Tutti i complottisti Ormai sto scrivendo Non hanno attaccato Nessuno Non esiste l'Ucraina Ok Punto Non esiste E adesso scopriamo Che l'Ucraina È il Molise Cioè Esatto Perché Ritorna il meme Del No Si chiama Piccola Russia Punto Hai ragione tu Scusaci No È come Come quelli Noi non stiamo stati Sulla Noi non siamo stati Sulla Luna Frama davvero Perché pensi che esista la Luna Esatto Esatto Perché esisti che Mi hai anticipato E mi hai rubato la battuta Che tra l'altro avevo copiato da qualcuno Non mi ricordo chi Però purtroppo bisogna rispondere Sì ragazzi Preciso Perché la chat lo richiede Stiamo scherzando Si chiama Ironia Sì No no Non esiste È vero Cioè il Molise Sono convinto Che il Molise Non esista Ma io ci sono stata È un'allucinazione O almeno mi hanno detto così Quindi non lo so È l'allucinazione Di Campobasso È il Campobasso Field Of Allucination No ma infatti Per quello che Io sono andato in Abruzzo Ho controllato poi Se ci fosse il Molise Da qualche parte Non l'ho trovato Cos'è il Molise Cos'è Dai Grazie Matteo Basta che stiamo Dato piacere Grazie a voi Spero di non aver detto Troppe puttanate No 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 Grazie Mirko L'abbiamo detto Tranquillo Tutti Grazie ragazzi Per essere passati Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima